La prima linea dell'Istituto Mazzoli abbiamo deciso di fare qualcosa per il nostro paese ma soprattutto per il nostro pubblico. Quindi abbiamo deciso di raccogliere dei rifiuti per tutta la marina di San Salvo e le abbiamo divise in base alla loro vicina. La scorsa settimana noi all'unni del primo Aite dell'Istituto Raffaele Mattioni siamo andati al biotopo di San Salvo Marina per raccogliere i rifiuti e i rifiuti in base alla loro provenienza. Anche oggi noi all'Istituto Mazzoli ci siamo andati al biotopo di San Salvo Marina per raccogliere i rifiuti e fortunatamente da molti anni a parte di San Salvo ha attivato la raccolta differenziata. Però purtroppo nelle varie arriverti del paese non avviene la raccolta differenziata. La guida è rivolta soprattutto alle classi del nostro istituto ma anche a quelle degli altri scuola. It's your turn! Get in water! Friday for future! La guida è rivolta anche a quelle degli altri scuola.